Ciao, ciao stelline, com'è state? Com'è state? Io ovviamente spero che vada tutto molto 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 bene Benvenuti o ben ritrovati sul mio canzone in un nuovo video Oggi parleremo dei preferiti dell'operito Qui davanti a me, come al solito, ho tutte le cosine da mostrarvi E vi dico subito, subito, quale è stata la mia canzone preferita di questo periodo E credo che lo sarò ancora So parlando della canzone, della nuova canzone dei Depeche Mode Ghost Again Ghost Again è stato amore al primo ascolto E infatti l'ascolto spesso perché mi piace tantissimo Ma i Depeche Mode per me sono una garanzia Perché è il mio gruppo preferito insieme a qualcun altro Ed è da sempre Quindi insomma non hanno deluso le aspettative Inoltre mi piacerebbe tantissimo andare al loro concerto Ma purtroppo questi concerti sono sempre a fine luglio E come sapete chi mi segue da tempo sa Che io odio con tutta me stessa il caldo Questo caldo degli ultimi anni che ha sfissiato Io non riesco, c'è sto proprio male E quindi per questo motivo non posso proprio Permettermi di affrontare una giornata della genere Sotto al sole con quel caldo insieme a tutta quella gente È impossibile E mi dispiace molto perché sono anni che Spero che mettano una data Non in estate così profonda Ma un po' prima E quindi chiuso argomento per quanto riguarda la canzone Vorrei specificarvi una cosa Nel video dei film e le serie tv preferite Ho saltato la serie tv Una miniserie che trovate su Netflix Che si intitola Il Diabolo in Ohio Che devo dire avevo in programma da un po' di tempo Poi ho deciso di guardarla quando non sapevo Insomma cosa vedere E mi è piaciuta molto E sinceramente avevo un dubbio su una determinata situazione Ho detto ma mi sa che questa è una storia vera Perché se non fosse stato così Perché nel caso in cui non lo fosse Mi sembrerebbe strano insomma Che una determinata dinamica la rendano così E infatti sono andata a vedere Ed è una storia vera e basata su una storia vera Comunque ve lo consiglio E' breve e spero in una seconda stagione Il che significa che mi è piaciuto E che sono curiosa perché potrebbero aprirsi insomma Nuovi sviluppi Ma passiamo subito subito al cibo Che so che è la parte che preferite di più Tutti i consigli che vi do E parto con il mio amore folle Che ho per queste patatine Che veramente sono la mia droga Ho due buste piene in camera perché Intanto le faccio vedere Eccole qui Allora Dicevo ho due buste piene perché Purtroppo queste le ho trovate alla Lidl E ho capito che facevano parte di quei prodotti Che hanno Tipo c'è la settimana asiatica La settimana greca Ecco Erano dei prodotti che facevano parte Del tema della settimana E ci sono rimasta malissimo Infatti ho fatto il giro Di tutti i Lidl della zona Per vedere se trovassi Qualche Insomma rimanenza di queste patatine E quindi ho fatto il carico Allora queste In particolare Sono troppo 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 buone Pensate che io non sono Un amante del burro d'arachidi Ma Sono la fine del mondo Buonissime Queste qui In alcune C'è tipo la cremina dentro Buonissime E tra l'altro Questa marca Se non erro Ce l'ha anche il Conant Ma anche altri supermercati Ma Queste qui Non le ho ancora trovate Se le trovo in giro da qualche parte Vi aggiorno O magari Scrivetemi Nei commenti Dove potrei Trovarle Perché mi piacciono troppo E devo dire anche A livello di ingredienti Non sono Non sono per niente Con schifizia all'interno Devo dire C'è farina di mais Burro di arachidi Al 30% Fatto dal 100% Di arachidi Tostati Olio di girasole Alto leico Proteine di pisello E sale marino Tutto qui Anche per quanto riguarda I valori nutrizionali Diciamo I grassi saturi Su 100 grammi Non sono tantissime E pensate Che una confezione Tra l'altro Sono 70 grammi 75 grammi Quindi Queste Le abbiamo scrannocchiate Io le ho fidanzato Quando vedevamo film Qualche serie E sono state Di ottima compagnia Queste con una birretta fresca Sono la fine del mondo O una coca cola Non so Comunque Buone 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 E sono Dico La marca Perché non si legge bene Fiorentini Sneak snack Ecco Fiorentini Sneak snack E poi Mi piacciono molto Anche queste In particolare Accompagnate A qualche Salsina Queste sono Proprio Leggerissime Sono buone E Sono fatte Con lenticchie rosse E ggbio Quindi Cioè Super 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 Consigliate Anche queste Ovviamente Quelle sono più gustose Quelle Al burro D'arachidi Ma anche queste Non scherzano E non fatemi Impressionare Dall'odore Nel momento in cui Aprite la busta Comunque Sono fatte Con Comunque Sono fatte Con Fagioli E ceci Con lenticchie E ceci Quindi c'è un po' Quel gusto C'è quel Odore forte Quando aprite Di legumi Ma non vi preoccupate Perché sono Buonissime Più delicato Il sapore Ma buone E ve le consiglio Come vi dicevo Accompagnate A qualche Salsina Eccole qui Poi voglio Consigliarvi Questo Couscous A cui Non avrei dato Due lire Perché Sto evitando Comunque Di mangiare Sempre pasta Sempre farina Super raffinata Anche nei dolci Sto un po' Insomma Cambiando Usando farine Un po' più Integrali O farina Tipo Di tipo Insomma E poi Sto variando Anche molto Non sto mangiando Pasta Tutti i giorni E siccome Amo il Couscous Che è Velocissimo Da preparare Ho Decidato di provare Questo qui Al grano Saraceno Ed ero un po' Spaventata Dal gusto Perché è un po' Più forte E invece Lo preferisco Di gran lunga Al couscous Integrale Che Non mi piace Vi dico la verità Ma questo è molto buono Questo faccio con Le zucchine E Mi piace tanto È già Il secondo scatolo Che Consumo Quasi finito Ed è della marca Felicia Felicia Questo soprattutto In estate È veloce Fresco Non dovete stare Ora vicino ai fornelli Quindi adoro Il couscous E vi consiglio Di provare A preparare Questo qui Perché Ho anche Di altre Marche Però Questo è il grano Saraceno Mi piace molto Rispetto a Quello integrale Devo dire Un altro prodotto Che amo molto Che è questo Alla Lidl E Ci sono I fiocchi D'avena Io la mattina Faccio colazione Con porridge Mela e cannella Oppure porridge Con mirtilli Mela O mirtilli E bere Insomma Non sto neanche Più usando Il latte Ma Lo faccio Con l'acqua Molto più leggero E Che volevo dire Devo ricomprare Però lo sciroppo D'acero Perché Amo molto Lo sciroppo D'acero Quando magari Non metto frutta Metto solo Sciroppo D'acero E Ho fatto Insomma Quando vado Più veloce E Questo perché Lo amo molto Loro innanzitutto Sono i fiocchi Da vena Più economici Che abbiamo mai trovato E abbiamo mai acquistato In giro Sinceramente Sono già Sono più trattati Rispetto al Chi Cioè Al fiocco Interro Che siamo abituati A trovare E un po' più grandi Della farina D'avena Che è per i pancake O per le torte Insomma Un po' troppo fine Per fare il porridge Questo è perfetto E cuoce In due secondi Cioè Se andate di fretta E non volete però Rinunciare al porridge Vi consiglio questo Costa solo un euro Sono 500 grammi E anzi Vi consiglio proprio L'avena Cioè Di fare colazione O di introdurre Comunque L'avena Nella vostra alimentazione Perché Cioè È una medicina naturale Fa benissimo Quindi Insomma Ve la consiglio E questa Della Lidl Cioè Mi ci sto trovando Molto bene Perché Come vi dicevo È veloce È buona Ed è anche Economica Rispetto Agli altri Fiocchi Che si trovano In giro Poi vediamo Che cosa Ho più Ah Sì E sto parlando Sto parlando Sto parlando Di questo qui Che è abbondantemente finito Ed è il burro 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 Buonissimo Cioè Questo lo mettevo Anche nella pasta Per dirvi Quando Sempre andavo Di fretta Mettevo un cucchiaio di burro, di mandorle basilico e un po' di fila del fiebrodeica buonissima, o con l'erba cipollina insomma lo potete spalmare per la colazione, metterlo nel porridge ed è della marca Coro di cui già vi ho parlato ci sono anche altre creme spalmabili sempre 100% tipo pistacchi, nocciole insomma molto molto buono mi sembra costi 16 euro Coro L'ultimo prodotto invece per quanto riguarda sempre tema alimentazione voglio farvi vedere questo latte di riso che allora vi dico subito al Conant costa 3 euro e qualcosa mentre invece alzo le 365 mi sembra la metà quindi sì questa catena di supermercati è anche nelle vostre zone vi consiglio di comprarlo al 365 e questo è il latte di riso granarolo che utilizzo anche per cucinare al posto della panna quando voglio fare una cremina lo allungo con un po' di latte di riso oppure a volte lo metto nel porridge o da bere insomma e tra tanti latte vegetali questo ha meno zuccheri e non ci sono schifezze all'interno perché è pure troppo a volte si acquistano questi prodotti proprio per avere un'alimentazione più sana eccetera e poi dentro magari ci trovate cose che non andre però insomma messe troppi zuccheri o qualche conservante attenzante insomma queste schifezzine qui non buone all'interno non succede i codi di alcuni prodotti che dovrebbero essere più salutari rispetto ad altri quindi leggete sempre l'etichetta vi consiglio magari vedo la sua latte da pina latte di soia di soia eccetera e poi sono pieni di zuccheri ma proprio pieni soprattutto quella di mandorle purtroppo quindi con questo mi leggero rispetto ad altri mi ci trovo bene ve l'ha fatto scoprire mio fratello ed è bello ecco è un litro si è un litro della della granarolo bene passiamo al prodotto top del periodo l'ho acquistato su amazon vi metterò il link in info box se siete interessati e questo qui è per avere una postura più corretta visto che sono sempre goppa nonostante questa sedia nonostante tuttunque ho sempre la tendenza a sporgermi in avanti e stare curvata quindi ho deciso di acquistare questo che l'ho trovato molto valido tra l'altro è un dispositivo medico di classe B se non erro e appunto è per la postura regolabile e mi è piaciuto tanto che all'interno all'interno ho trovato oltre che vi faccio vedere questo qui che sinceramente ho amato perché non stringe non mi dà quella sensazione di costrizione sinceramente regolabile ecco qui molto leggero molto leggero insomma si si regola aveva ottime recensioni quindi ho deciso di di prendere questo e come vi dicevo all'interno trovate anche a parte delle istruzioni su come usarlo eccetera ma poi ho adorato perché mi è arrivata dopo l'acquisto subito una mail da parte del venditore che mi spiegava che appunto è un dispositivo dispositivo medico di classe B eccetera e mi ha mandato anche un pdf con degli esercizi per la schiena cioè adoro tanto vedete vedete qui appunto fa vedere come si indosso come si regole eccetera poi qui ci sono tutti i riferimenti i contatti in tutte diverse lingue e poi all'interno esce anche questo elastico comunque per fare degli esercizi per robustire insomma per rinforzare la schiena quindi appunto mi manda questo pdf con tutte le istruzioni su come fare esercizi mi è piaciuto tantissimo non ricordo il prezzo che lo scrivo da qualche parte e vi metto anche il link nell'info box veramente no veramente ho adorato e vi arrivo appunto in questa confezione poi passiamo poi passiamo agli accessori vi faccio vedere più che altro cosa mi sono usciti cosa mi è uscito dall'uvo di pasqua allora innanzitutto che è questo qui che purtroppo non mi posso avvicinare altrimenti splash peccato comunque nel luo di pasqua che mi ha regalato mia sucera praticamente della bauli escono sempre cose firmate e questo braccialettino con la cucinetta ecco è dell'amorellato mi dispiace che è riuscito a vedere bene ecco ecco ce l'abbiamo fatta più o meno non ho fuoco però più o meno capite questo qui ed è d'argento dell'amorellato poi poi dal luo parati e milano che era buonissimo con con 200 all'interno gusto gianduia che mi ha regalato la zia del mio fidanzato anche qui abbiamo una catenina però c'è sempre d'argento però questa volta una catenina una colonina molto 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 carina devo dire con le berline le forfalline troppo troppo carina questa l'ho indossata mi piaciuta tanto quest'anno tutti gli accessori mi sono usciti poi 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 ah si la braccialetta che vi ho mostrato questo era contenuto in questa bustina di velluto con appunto il nome del mare che ho amorellato poi è da l'uo che non ricordo come si chiama però è quello liber è quello lì per la che poi i soldi vengono devoluti in beneficenza per la ricerca per l'autismo mi è uscita questa questa collanina con tutte perline che sono argento blu e turchesi anche questa molto carina che va non molto lunga non scende molto lunga quindi come piace a me questa qui l'ho detto tutti tutti accessori che ho preso io e poi questo è dell'ultimo uvo che ho aperto ieri perché siamo in base da cioccolata e avevamo un uvo gigante di una cioccolateria delle mezzone e all'interno è uscito questo bracciale aspettate che anche questo da argento c'è scritto di lì di argento e questo qui non è argento ma acciaio c'è scritto appunto si certifica che l'aggiale è in acciaio ed è questo qui un bracciale pensavo fosse una camigliera ma no mi sa si chiama bracciale anche bisantino troppo troppo carino anche questo mi sono usciti tutti accessori super carini vedete con queste perline di diversi colori vediamo questo estivo è molto carino ce lo vedo questo come braccialetto estivo ce lo vedete insomma lo metterò ok poi che cosa manca che cosa manca prodotti doccia allora non ve lo faccio vedere per la terza volta altrimenti mi mandate a quel paese lo shampoo è quello che sto utilizzando da mesi che è quello della Lidl della Sienne a mela verde che adoro perché mi da volume avevo appena fatto lo shampoo vi assicuro che non ho tanti capelli sembra che io abbia messo lo shampoo secco quello lì che appunto serve per dare volume che da quando uso questo shampoo praticamente non sto usando più quello lì secco per che mettevo magari pure prima di uscire per dare un po' più di volume cioè sono scioccata mi piace tantissimo tantissimo e vorrei provare anche quello a limone che secondo me è ancora più volumizzante e niente quindi perché i capelli fini come i miei pochi c'è anche un pochi però sono molto fini e quindi mi straconsiglio quello lì che tra l'altro ha un ottimo inchi e il bagno schiuma è anche lui cioè non riesco a lasciarlo sto facendo ricomprare sempre questo perché mi piace la profumazione delicata ma persistente che lascia e mi piace tanto è il termo zero micellare zero per cento sapone coloranti nickel tested anche per bambini cerco comunque di utilizzare prodotti delicati e con punici e dopo e dopo il bagno la doccia io sto mettendo sempre questa crema della onia la so sarò ripetitiva ma questo è quello che sto usando ed è quasi finita e la ricomprerò perché mi piace tantissimo cioè questa è la crema della sienne per il corpo secondo me sono dei migliori perché hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e sono super nutrienti efficaci hanno un buon profumo e hanno un buon inci questo era di un set che mi ha regalato mio fratello a Natale questo per le pelle normali secche perfetto poi per quanto riguarda i prodotti make up più che altro parliamo di prodotti skin care beauty non posso non menzionarvi il calma palma mi piace troppo questo l'ho acquistato io come sapete ho fatto una collaborazione con gli epoda o due due mi diede anche un codice sconto che non so se è ancora valido credo di no sinceramente però io come sapete quello che sponsorizzo lo uso e mi piace l'ho provato quindi per questo lo consiglio tanto è che l'ho ricomprato mi spese ovviamente e mi piace tantissimo tantissimo perché per la mia pelle e per il mio tipo di pelle soprattutto è perfetto questo ovviamente io ho ovviamente funzionato più a detersione quindi utilizzare questo è poi qualcosa di un po' più esfoliante ma delicato come il bubble double sempre di epoda e questo appunto è un burro struccante detergente che veramente vi nutre oltre che pulire la pelle mi piace tantissimo tantissimo e per detergere il viso per la pulizia appunto sto utilizzando queste spugnette come sempre però quale lì che mi aveva regalato o una di voi prese dalla mia wishlist erano finite e ora ho queste qui che sono uguali praticamente e sto utilizzando quella bianca infatti non c'è qui vedete manca che ce l'ho appesa e vi escono anche queste ventosine perché la spugnetta dopo che l'avete utilizzata la vada va appesa perché si deve asciugare all'aria insomma e non va chiusa altrimenti siamo fish e quindi me ne rimangono queste tre hanno una vita non breve quindi conto insomma che mi dureranno un po' sono 100% naturali sono spugne cognac io mi ci trovo benissimo c'è più del foreo che insomma ho e che utilizzavo per pulire il viso mi trovo molto meglio con le spugnette cognac sinceramente magari vi metto il link su cio nell'infobox e tra l'altro credo che sia un bellissimo pezzerino un regalo insomma da fare a una vostra amica vostra mamma sorella amico fidanzato perché tra l'altro anche il mio fidanzato se ne è innamorato di queste spugnette la scatolina è molto carina eccole qui e sono di quattro tipi questo è il carbone vegetale questo è il verde questo è un aricorto vabbè comunque ogni tipo di spugnetta è diciamo destinata a è destinata a qualcosa in particolare tipo la spugnetta nera è per i pori più dilatati o per rimuovere tipo i punti neri eccetera quella colte verde è antiossidante scusate in inglese quindi sto traducendo è antiossidante protettiva è una funzione protettiva sulla pelle poi c'è quella bianca che è ideale per tutta la famiglia pulisce ed esfolia gentilmente delicatamente la pelle e poi c'è quella questa qui questa più scura questo rosa scuro che è piena di è ricca di minerali e ed è adatta principalmente alle pelle più mature quindi molto molto carina è davvero questa confezione che è proprio che vabbè cioè ha tantissime certificazioni è vegana non testata sugli animali bio naturale vabbè ottima per quanto riguarda invece i profumatori nel salotto ho preso questo qui che mi piace tantissimo perché io adoro questa profumazione fiori di cilicia ed è dell'airwick perché è il profumatore dell'airwick nel salone e è molto molto buono mi piace il profumo quando ti posto nella fase premestruale sono un po' gonfia questa è perfetta veramente anche ha un'ottima funzione anche digestiva quindi me la straconsiglio da di sana di sana al finocchietto e vi volevo far vedere vabbè già l'ho fatta vedere su instagram nella sezione community di youtube ma come rende quanto è carina mrs.brick vedete questo è questo mi ha regalato alessia grazie mille è una mia iscritta che mi ha fatto questo regalino che ha preso la mia wishlist di amazon e sa che sono un amante di tè di sane e mi ha preso eccola qui mrs.brick troppo troppo carina è proprio della disney infatti era contenuto qui anche la confezione era molto molto graziosa tesoro io ti ringrazio ancora perché l'ho amata adorata veramente ok stelline credo che il video possa finire qui perché purtroppo non so da quanto tempo sto parlando ma so che si sta scatenando l'inferno fuori quindi anzi scusate se avete sentito dei rumori ma ormai avevo avviato il video e inizia il vento e vabbè solito solito i problemini che io cerco di obviare facendo tagli eccetera per non disturbarvi ma non potevo registrare più tardi quindi ahimè questo è quanto vi mando un bacione grande 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 grazie mille per aver guardato questo beauty e fate bei sogni noi ci vediamo presto un bacione buonanotte grazie mille grazie mille